Cambia molto l'offerta turistica della località, chiaramente. Si scosta anche dal punto di vista temporale e si destagionalizza sotto diversi punti di vista. Intanto noi abbiamo sempre promosso ovviamente tutte le peculiarità della nostra località, del nostro territorio, che sono in primis la spiaggia, il mare, la qualità della ricettività e il verde, di cui siamo veramente fieri. Adesso entriamo in una comunicazione di altro livello e possiamo finalmente parlare anche di storia e di cultura. Quindi adesso, mano a mano, che gli scavi e il lavoro andranno avanti, informeremo tutti e ben presto arriveremo anche a far vedere ai nostri turisti questo nostro patrimonio archeologico. I dati principali che sono emersi da questo scavo e che conosciamo meglio adesso, l'estensione del complesso della villa, cioè il nucleo, un nucleo della villa era già conosciuto prima, ma non si sapeva come si estendeva verso il mare, diciamo, perché qua in questa situazione eravamo in epoca romana molto più vicini al mare rispetto alla situazione odierna. Adesso sappiamo che questa villa infatti si sviluppava anche con più ambienti verso il fronte del mare. Ancora non abbiamo trovato i limiti, diciamo, cioè non abbiamo trovato la fronte proprio verso il mare, ma abbiamo almeno un'indicazione approssimativa su quanto si poteva ancora estendere. La grande possibilità o il grande potenziale di questo sito è che qua siamo in un ambiente che non è stato, diciamo, rimaneggiato fortemente già da alcuni secoli. La Val Grande è rimasta così come la vediamo adesso più o meno da tre secoli, invece in altre località dove sono attestate anche ville paragonabili, tipo la busta di Carole, con l'attività agricola, eccetera, con anche azioni di bonifica, eccetera, le tracce delle ville romane sono molto, molto compromesse. Qua ritroviamo uno stato di conservazione della villa un po' straordinaria, ma soprattutto possiamo anche ricostruire un po' anche il contesto. E questo contesto fa la differenza soprattutto per capire meglio non soltanto l'architettura, ma anche, diciamo, le basi di vita, cioè anche i fattori economici, anche il contesto ambientale. L'iniziativa partiva dall'Università di Regensburg, ma abbiamo cercato subito anche partner italiani perché ci pareva giusto di collaborare anche con persone che in questo ambiente lavorano già da molti anni e con la professora Busana, innanzitutto volevamo collaborare perché lei è proprio esperta delle ville romane di questa zona. Abbiamo un'equipe binazionale adesso che collabora molto intensivamente e sono molto contento che possiamo poi realizzare questo progetto anche con il sostegno adesso della Deutsche Forschungsgemeinschaft, l'istituzione più grande di promozione scientifica che ha creduto in questo progetto e ci sta sostenendo con dei fondi finanziari. Il nostro interesse, l'interesse di questo progetto è proprio quello di non limitarci ad indagare la villa, ma quello di capire come si collocava all'interno del paesaggio, del territorio, dal punto di vista sia naturalistico sia dal punto di vista della distribuzione degli insediamenti. E quindi, da una parte, individuare la linea di costa, veramente da quanto distante era dal mare la villa, ma anche capire alle spalle della villa com'era il paesaggio, perché oggi noi lo vediamo coltivato, spianato, ma siamo sotto il livello del mare. Anticamente era un paesaggio anfibio, con lagune, barene, canali lagunari, paleodossi, dove troviamo ancora oggi degli insediamenti sia romani che medievali, dediti alla pesca e alla caccia, esattamente come oggi questa vera vigiosa valle. Per cui c'è una grande continuità di vocazione dei territori. Il nostro scopo è quello proprio di capire meglio il sistema insediativo e anche magari individuare gli approdi, gli approdi di queste, perché ricordiamo che siamo tra due rami del tagliamento, il tagliamento maius e il tagliamento minus, di cui ci parla Plinio, che erano esattamente, noi ci troviamo esattamente in mezzo tra questi due rami, che dovevano avere dei porti, ma dovevano esserci anche degli altri scali, magari secondari, all'interno di una rotta di navigazione interna. E quindi l'obiettivo è proprio quello di ricostruire un paesaggio e la sua evoluzione. Il lavoro da fare è ancora molto lungo, direi, nel senso che possiamo immaginare delle prospettive di una possibile fruizione pubblica, probabilmente nel medio-lungo periodo e probabilmente per comparti. Tutto dipende da che cosa effettivamente verrà fuori durante gli scavi in questo progetto triennale e da come ci si potrà ben integrare con l'area della Val Grande i percorsi naturalistici già attivi. Siamo in una zona tutelata, è una zona di paesaggio straordinaria. Certamente l'archeologia pensa a integrarsi con le dinamiche di tutela del paesaggio, quindi andremo a cercare di non dare troppo disturbo ovviamente all'ecosistema. Però io credo che possa valere la pena appunto ragionare anche in una possibile apertura al pubblico, più o meno lunga durante l'anno, di porzioni di questo sito per raccontare che c'è una bivione antica sepolta sotto le dune.